Salve ragazze e benvenuti di nuovo sull'episodio di Paynever Rai il trentesimo giorno E questa è la quinta volta che provo a fare lo stesso giorno Sono due casi O è impossibile da fare Ma ho visto alcuni video in cui ci sono riusciti O sono da bohio che non riesco a farlo Ma proviamoci In un video avevo visto a uno Che è riuscito Cioè Camminava piano e mentre recuperava tipo vita Perciò lo so Abbiamo sempre Linda Si qua ci sono Linda Da sotto abbiamo E' già maldizione di carne Ma non è successo Non lei Da sappiamo comunque Tu per giù dove andare Perché vi ripeto a dire L'abbiamo fatto già tante volte Ma comunque ogni volta che ho giocato Ecco che cambia Smettilo C'è palle Si sente Carion Ovviamente perché Non può mancare Spero di non morire prima io O prima io Cerchiamo di fargli recuperare comunque la vita A questo beduino Al personaggio Camminando Comunque lentamente Tanto appena vediamo che comunque è rosso Carichiamo le pile Quando vediamo che è rosso Mi sembra che avevo sbagliato La sotto c'è Linda E' spento E' spento E' penso E' comunque Ci rispunterà di nuovo Si Faccio il 3 2 1 No Allora molto probabilmente ci spunterà da un momento all'altro tanto per farci cacare di sopra Allora Di questo Allora 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 Ragazzi Qua c'è il bagno infernale Ecco Sì ma A noi C'è scalata La vita La vita Ecco Vabbè Capita Ora Qua si allarga Il muro Che possiamo Perfetto Sì però Se vado piano piano Non ci svegliamo più però Messaggino Sì Va bene Vabbè Dammi tempo Allora Allora Là dentro ci sono le pile ma sento fare Ops Quindi Evitiamo Di entrarci Qua dovrebbe ci spuntare Ninda Forse Se non ci spunta prima Perché di questo Si tratta L'ambientazione Cambia quindi non sappiamo mai se noi oltrepassiamo la porta ce la troveremo davanti porta intendo comunque questo la sua boccia è linda intanto io guardando lo schermo da qua guardando lo schermo da qua mi vado a prendere le pile che ci sono qui si ragazzi sto evitando di entrare come nello scorso video in quasi tutta la porta la linda questa volta la guarderò in faccia andando piano la speranza e non mi si abbassa la vita perché di questo anche si tratta eccola e mi si abbassa la vita d'acqua quindi osso il gioco è stronzo oppure a momenti abito scoppiato la puntina adesso un po' il bambino sempre chiaro c'è la dobbia giocare piano a quanto pare la mente perchè stavolta sono comunque attento dovrebbe spuntare qua e per il semplice fatto che già è spuntato soltanto una volta questo non è che mi piacciono un'altra perché dallo scorso video come avete ben visto è spuntata più di una volta tipo una cosa tre volte quindi credetemi che io in questo gioco so volendo veramente di impatto anche a livello comunque delle musiche che ci sono veramente le ambientazioni le ambientazioni soprattutto qua dentro sembra un labirinto allora la c'è la dobbiamo andare si e in cui ci sono già delle pile ci abbiamo le pile e qua dentro ora si chiude l'ambientazione e noi dobbiamo fare avanti indietro di verso per vedere se si scava comunque vediamo se si scava comunque e lui giustamente si spaventa si lo scala però con chi si ha poco proprio poco forse si è aperta intanto ora ci dovrebbe rispondere ma anzi forse ora ci risponderà di nuovo però prepariamoci e se non mi sbaglio non mi andare per forza qui la stanza dove c'è clown ragazzi ora ci compare il clown perciò prepariamoci almeno 2 1 1 e ci ha passato a valida se è spaventato di brutto cerchiamo comunque di rallentare e prendersi il suo tempo per riprendersi un po' non intanto cerca di spegnerci delle luci appunto la voce per non farci ma io per quello che so topia si alza la faccia ok non l'ha calato non l'ha calato invece allora abbiamo la chiave non lo so se ci arriveremo di nuovo alla fine noi incrociamo le dita e speriamo che la stronza di linda ora questa porta è chiusa perché la chiave giustamente si trova là dentro e quella è la stanza del dottore per conti si allora ragazzi dobbiamo aspettare che succede qualche cosa se ne è sceso però non se ne è sceso come una scorsa volta ci penso che era più grosso speriamo dobbiamo comunque attendere il pelo a proposito di capelli ci siamo tagliati i capelli e oggi ci siamo un po' di relax dopo questo gioco internale ci vuole ragazzi a due giorni in poche parole se ci mettiamo comunque l'impegno a appunto a portare a termini a portare a termine pennebord drive perché ragazzi ora dovrebbe ricomparire veramente una cosa difficile è pauroso attento un po' qua dovrebbe apparire 3 2 1 si ragazzi eccola qua è si è scalata ancora la vita ora passiamo da file c'è lei che spenderò ah non lo so 3 1 1 1 prepariamoci ragazzi forse l'asplorso ce l'abbiamo fatto siamo nella stanza diciamo del generatore un boccato mi interruttore principale ragazzi andiamo sempre piano Io diciamo che Super giù queste parti Li conosco Quindi Il codice Dovebbe essere Ho visto i video 5 2 No 0 Ma cambia vedi Cambia di gameplay Cambia di gameplay Allora Andiamo intanto piano Perché non si sa mai Non si sa mai Se ci arriva appunto a spuntare Linda Intanto prendi il telecomando Il telefono davanti per prendere appunti Perché Questo gioco è imprevedibile Allora il primo interruttore è qui Perfetto Trova gli altri due Allora Piano L'altro interruttore Dovrebbe essere Qua dentro Qui però Attenzione che qua Tu basta che Sei muto io Basta Hai sentito che mi ha fatto Pss Perciò Trova l'ultimo interruttore Io so dov'è L'ultimo interruttore Speriamo che Non moriamo E ora ci spunterà Di nuovo Linda 3 2 Non lo spunterà qui No Dove Appunto Sì Mi ricordo bene Dove entra Qua c'è il numero Guarda 823 823 Te l'ho inviato Non lo sto andando in posta direttamente La sala è l'interruttore è questo Allora il mio fratello ha ragione 823 8 8 823 823 923 924 Si è che il numero Il numero Qualcuno Si è spostato Tipo Non lo so Non lo so Allora Ragazzo L'attenzione Allo spavento Eccolo Ancuno Non so se Si è spunterà Di nuovo Dai Capato Perfetto 8 8 3 perfetto ora bisogna soltanto aspettare si spera che dobbiamo soltanto aspettare ragazzi si sta diventando tutto tanto io voglio stare qua dentro perchè non si sa mai ecco ragazzi siamo arrivati alla fine ce l'abbiamo fatta una bambola e che è il film di Annabelle la celinda che penso che sta scappando intanto l'effetto schermo verde ha fatto benissimo allora la bambola era posseduta essendo che ci esce questo fumo nero non tremare dai chi finisce vi metti paura ragazzi siamo arrivati alla fine del gioco si ce l'abbiamo fatto batti 5 eh non si può schippare non si può schippare la parte perciò ragazzi ragazzi io spero tanto che l'episodio vi sia piaciuto dopo 5 tentativi e più siamo riusciti comunque tramite eh comunque altri video ma abbiamo visto comunque che in altri video che era 5.05 in no si 6 629 se non mi sbaglio in un video eh io sono riuscito a trovare quella combinazione perfetto eh ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto eh lasciatemi un commento su quale serie volete vedere eh in futuro sul canale eh vi lasciamo con i sottospitoli eh ragazzi soprattutto ditemi poi che cosa ne pensate c'è altro gioco iniziale appunto già detto troverete eh in poche parole sotto nella descrizione il link della fanpage di instagram eh e e del mio canale e di tutte le altre cose comunque dove ci potete contattare eh ragazzi io spero intanto di farvi anche una bella sorpresa su Train Simulator 2015 in 2015 intanto non si può schippare eh ragazzi da me e mio fratello vice lol è tutto e noi ci vediamo con il prossimo episodio o prossima serie ciao a tutti ciao ciao ciao